Buongiorno, illuminata da finestra in tutta la mia bruttezza del lunedì mattina, però insomma non ho tempo né di sistemare casa né di sistemare mio, però volevo farvi questa specie di comunicato ufficiale, dato che ho ricevuto molti messaggi qua su Youtube riguardanti il gruppo Facebook, quello che si chiamava Yankee Candle Mania Italy. Questo gruppo mercoledì all'improvviso è stato chiuso, non ne sappiamo ancora bene i motivi, nel senso che sì, li sappiamo, però insomma non mi va di spiegarli qua sul tubo, comunque pare che insomma siano state fatte delle segnalazioni per alcune violazioni insomma del marchio eccetera eccetera, insomma è stato chiuso. Ora noi siamo in trattativa, stiamo provando insomma a riaprirlo, ma non sappiamo se questo succederà. Volevo fare questo piccolo video insomma per dirvi che noi nel frattempo abbiamo aperto un altro gruppo, stiamo piano piano recuperando insomma tutti i membri, quelli che vogliono insomma tornare da noi. Il gruppo si chiama Candle Mania Italy, manca la parola Yankee praticamente, Candle Mania Italy, io sotto vi metto il link, quindi come al solito voi potete benissimo cliccare e se vi va a iscrivervi, vi ricordo semplicemente che ci sono le regole anche qui, le stesse di Mania, sono identiche, quindi sono fissate in alto nel gruppo, le potete leggere, vi chiedo solo di rispettarle, non sono molte, siamo molto dispiaciute, potete immaginare eravamo quasi 6.000 membri e purtroppo meglio che non mi esprimo così pubblicamente perché sennò potrei dire cose che potrebbero essere usate contro di me e così. Niente, io vi invito soltanto a cliccare il link che vedete sotto, se non avete voglia di cliccare il link, cercate Candle Mania Italy e ci trovate, io per adesso vi saluto, mi mando un grosso bacio come al solito e alla prossima!